Non c'era prima. La tela era bianca quando ero vivo. Come mai vedo il disegno ora che sono morto? Per essere un esperto sei piuttosto sbalordito. Con Annie c'è stato un lungo corteggiamento. No, veramente no. Ci siamo trovati subito, come due... Spiriti affini. È estremamente raro, ma succede. Come dire, anime gemelle sulla stessa lunghezza d'onda. A quanto sembra anche nella morte. Riuscite a sentirvi attraverso i suoi dipinti. È una cosa che non avevo mai visto, Chris. Tu non riesci a vederlo, vero? E non ci riuscirai mai. Epictetus. E non ci riuscirai mai. Andiamo a vedere. E non ci riuscirai mai. E non ci riuscirai mai più. E non ci riuscirai mai. Dio te amo! Dio te amo!